700 kg di pesce sequestrato dalla Guardia Costiera di Barletta sono stati donati a Casa Accoglienza Santa Maria Goretti della Diocesi di Andria. Un gesto inaspettato ma molto apprezzato dalla comunità e dal responsabile Don Jeremy Acri che ha ricordato la povertà va combattuta e le uniche armi che noi abbiamo sono la carità, la condivisione e la giustizia. Sentiamo. Lo scorso venerdì 5 maggio Casa Accoglienza Santa Maria Goretti della Diocesi di Andria ha ricevuto in dono una grande quantità di prodotti ittici sequestrati e confiscati pari a circa 700 kg da parte della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Barletta. Un gesto inaspettato ma molto gradito e apprezzato dal responsabile di Casa Accoglienza e dai tanti volontari che accolgono ogni giorno chi vive nel disagio. Non possiamo nascondere il nostro stupore per l'attenzione, la considerazione e la grande generosità scrive in un comunicato Don Jeremy Acri che aggiunge Rendere grazie per quanto avete fatto e continuerete a fare, per il bene dei disagiati e di tutti coloro che vivono nel bisogno è cosa buona e giusta. Preghiamo affinché aiutati dalla grazia di Dio possiate continuare ad operare nel solco della giustizia e della legalità per ridonare a questa società la bellezza della verità, del rispetto delle regole e delle norme. Famiglie, bambini, anziani e quanti si fermano per trovare un pasto caldo presso la mensa della carità di Casa Accoglienza Santa Maria Goretti e di tutti gli altri ospiti delle altre case famiglia e accoglienza presenti su questo nostro territorio si uniscono a noi in questo atto di ringraziamento perché senza la vostra attenzione e senza il vostro ricordo non avrebbero mai potuto saziarsi di un bene riservato a quanti possono permetterselo. Insieme scrive ancora Don Jeremy Acri «Lavoriamo, agiamo perché la povertà sia arginata e venga restituito il sorriso a quanti ancora piangono». È vero quanto ha affermato Cristo che i poveri li avremo sempre con noi ma ciò non deve arrestare i nostri sforzi perché la povertà sia cancellata. Cristo infatti vuole una chiesa povera ma non fatta di poveri. La povertà va combattuta e le uniche armi che noi abbiamo sono la carità, la condivisione e la giustizia. C'è oggi una povertà, un'indigenza che Dio non tolera e che va combattuta, una povertà che impedisce alle persone e alle famiglie di vivere secondo la loro dignità, una povertà che offende la giustizia e l'uguaglianza e che come tale rappresenta una minaccia per una convivenza pacifica. Per tutto quello che continuerete a fare, conclude quindi il responsabile di Casa Accoglienza Santa Maria Goretti, ancora e sempre grazie.